Sono sempre più numerose le persone che acquistano online. A te è mai capitato di acquistare online? No. Come mai? Mi sembra troppo, come si dice, un po' scura come cosa. Ho paura di dare soldi in giro a qualcuno che poi non mi arriva niente, quello è il mio dramma. Sei uno di quelli che non si fida di inserire il numero della carta di credito online. Esatto, esatto, esattamente. Non mi piace come cosa, non mi sembra sicura. Di fondo è una cosa bellissima, ti arrivano direttamente le cose a casa, non devi fare niente, devi solamente fare un click e hai già tutto lì. Solo la trasparenza del codice del Bancomat. Cosa dovrebbero fare per farti sentire più sicuro? Gran bella domanda, non saprei. Magari, boh, non lo so. Non mi fido, punto. Internet è un posto brutto. Sì, acquisto spesso online perché comunque si risparmia ed è anche comodo perché ti arriva direttamente a casa. Che cosa acquisti solitamente? O le cover per il telefono o comunque anche i libri perché rispetto alle librerie arrivano prima e generalmente è questo. Cioè forse è più scelta su internet oppure trovi che sia più complicato trovare l'oggetto che cerchi? No, trovo che sia più semplice perché basta comunque scrivere quello che vuoi e trovi di tutto. Quali piattaforme utilizzi per acquistare? Generalmente Amazon o subito anche .it. Hai mai ricevuto delle fregature? No, mai. Infatti su Amazon sono sempre molto precisi e ci affidiamo a quello infatti. Quindi lo consiglieresti l'acquisto online? Certo, certo. Molti dicono che si perde un po' il contatto umano. Beh, questo dipende dai punti di vista. L'importante è che non si acquisi tutto online. Per esempio comprare le scarpe online no perché devo provarle. È questo. Basta trovare il giusto mezzo. Chi fa la spesa online? Beh, la spesa online per gli anziani credo sia una genialata. Invece per i quarantenni che non hanno voglia di uscire di casa non mi sembra un gran che. Al momento no. Come mai? Però ci sto pensando. Come mai hai pensato di cambiare idea e di iniziare ad acquistare online? Ma perché è più comodo. Più comodo, faccio l'ordine e mi arrivo direttamente a casa. Qualcuno dice che è anche meno costoso. Sì, sì sì, anche i prezzi sono più vantaggiosi. Non trovi che il commercio online tolga clientela ai negozi reali, quelli che possiamo frequentare? Sì, quello sì. Anche perché il negozio comunque ti dà la qualità, il servizio e tutto il resto. Lì vai sulla fiducia, fai l'acquisto e speri che ti arrivi a quello che hai scelto. Come vedi il futuro dei negozi tra dieci anni, quando il commercio online forse sarà ancora più diffuso? Esisteranno ancora? Penso proprio di no. Penso ormai proprio di no. Quindi bisogna guardare bene al futuro e cosa scegliere. Quando acquisti lenti manca il contatto umano? Molto. A me è molto. Però ormai il futuro è questo. Ci adeguiamo. Grazie. 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 Grazie.